Giacomo Mancini Reload è il titolo del concorso riservato agli studenti dell'ultimo anno delle scuole superiori e delle università calabresi. La sua presentazione è più sufficialmente la mostra fotografica Album di Famiglia che ha messo in luce la dimensione umana dello statista cosentino. Scopo di entrambe le iniziative è quello di collocare Giacomo Mancini nella storia e di promuovere nella riscoperta del suo profilo umano e politico i nuovi strumenti di ricerca e comunicazione. È un modo anche per allargare e usare i nuovi strumenti di comunicazione che all'epoca non c'erano e comunque per mio padre erano il futuro insomma sempre fatto parte dei suoi orizzonti è sempre stato molto vicino alle generazioni future dall'università a tutto quello che poi ha riguardato la sua attività umana e politica. Ringrazio Giosi Mancini che ha immaginato ideato questo percorso, una mostra e poi un concorso nelle scuole, è una mostra che ha una dimensione, ha tante dimensioni, c'è una dimensione pubblica ovviamente storica legata alla figura di Giacomo Mancini, ha una dimensione anche privata perché sono foto di un album di famiglie.